Non è tutto male. Manovra Di Maia annuncia il tempo pieno in tutte le elementari. Cazzo, tempo pieno in tutte le elementari, ragazzi. L'ha annunciato Gigino in una diretta Facebook della settimana scorsa. Guardate che questa cosa è bella, eh. Così i bambini, se vogliono, resteranno a scuola anche il pomeriggio. Che vuol dire più ore di studio, più tempo con i compagni, meno dispersione, i genitori più liberi. Ragazzi, è una figata questa cosa, su. Cioè, come dire, è una figata. Cioè, se l'avessero proposto quando ero bambino io, avrei chiamato il telefono azzurro perché, altro che fermarmi anche di pomeriggio, no? Io mi ricordo che a scuola contavo i secondi che mancavano alla campanella di uscita. Ma non nell'ultima ora, no. Io contavo i secondi quando entravo. 14.400 mancano, 14.199, 14.000... Ero all'ultimo banco io, sulla parete, dietro. Segnavo con le stanghette come i carcerati, no? Infatti, ogni fine anno la maestra mi adebitava la tinteggiatura. Vabbè, ora il rapporto con la scuola è cambiato. È cambiato il tempo pieno, è una conquista sacrosanta. Mi dice anche che per farlo Di Maio ha promesso lo sblocco di 2.000 nuovi posti di lavoro per gli insegnanti. Ma amica, ragazzi, mi diventa una figata sotto tutti i punti di vista. E poi Di Maio ha detto anche da ora, che vuol dire che è un provvedimento già studiato nei dettagli. Cioè pronto per essere attuato nel giro di poche settimane, due o tre, due, 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 un mesetto. Giusto il tempo per affinare le ultime cose, no? Il tempo pieno alle elementari, così Di Maio ci metterà 21 anni. Evidentemente da ora per Di Maio vuol dire tra 21 anni. Gian Antonio Stella sul Corriere ha calcolato che in Italia ci sono 86.000 classi senza il tempo pieno. Per applicarlo ovunque servirebbero mediamente due insegnanti per classe. E che quindi ne mancherebbero circa 43.000. Per cui, assumendone 2.000 all'anno, occorrerebbe aspettare il 2039. Quando i bambini di adesso saranno già laureati e lavoreranno da foodora per 2 euro l'ora. Non fa una grinza. Senza contare che poi servirebbero anche mense, laboratori, spazi didattici, locali, attrezzature. Tutte cose che Di Maio non cita perché le ignora totalmente. Praticamente da ora l'unico che fa il tempo pieno è Di Maio che si introia dalle 8 alle 18 senza nemmeno la pausa pranzo. La settimana scorsa ho annunciato le privatizzazioni. Manovra Di Maio fondi dalla dismissione di immobili di Stato. Cioè, lo Stato venderà il suo patrimonio per 18 miliardi. Cazzo, questo è bello, è una figata. Ma la domanda è, chi minchia ce li compra? 18 miliardi di immobili tutti nel 2019. Sì, perché nella manovra sono messi a bilancio tutti nel 2019. Peccato solo che il direttore del De Magno ha detto che in Italia dal 2015 al 2017 sono stati messi in vendita mille immobili all'anno e sono riusciti a venderne solo il 30%, ricavando più o meno 20 milioni all'anno. Ora il calcolo è così semplice che potrebbe farlo anche persino Di Maio aiutandosi con una calcolatrice e un'equipe dietro che gli schiaccia i tasti. 18 miliardi diviso 20 milioni fa 900 anni. Farà 900 anni. Quindi i 18 miliardi invece che nel 2019 li vedremo nel 3000. Più o meno quando i poli si saranno sciolti.